Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Estate protagonista ancora sul nostro territorio a causa di una vasta circolazione anticiclonica che garantirà stabilità e bel tempo ancora per diversi giorni. Parliamo della settima onda di calore che quest'estate 2017 sta interessando il territorio italiano. Pertanto nei prossimi giorni assisteremo anche a un deciso aumento delle temperature. Pensate che a Clusone le temperature torneranno anche quasi a toccare i 30 gradi e nella città di Bergamo 32-33 gradi. Vedete domenica sarà una giornata caratterizzata domani dal bel tempo a causa dell'espansione di una vasta cupola anticiclonica, l'anticiclone delle azzorre, che verrà a interessarci proprio a partire dalla settimana prossima, quindi determinando un cielo in prevalenza soleggiato. Quindi pertanto l'estate non vuole abbandonare il nostro territorio per diversi giorni e le perturbazioni sono costrette appunto a transitare a latitudini più settentrionali. Vedete infatti questa vasta area anticiclonica che interessa il centro-ovest del Mediterraneo ma tocca anche il nord Italia, il settore alpino e prealpino aerobico e quindi bel tempo e clima gradevole per i prossimi giorni. Andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una giornata soleggiata, un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio. Ho indicato i consueti annuvolamenti a carattere cumuliforme pomeridiano nella zona più settentrionale della Val Seriana, l'Alta Val Seriana, la zona della Val di Scalve, l'Alta Valle Camonica, dove non si esclude specie nei settori più di alta montagna qualche locale piovasco nel corso delle ore centrali ma di breve durata e di scarsa intensità. Poi nel corso del tardo pomeriggio avremo un deciso rasserenamento come è classico sui nostri settori. Nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Iseo splenderà il sole per l'intera giornata, farà anche molto caldo, anche se sul Lago di Iseo avremo una mitigazione del caldo dovuta alle brezze che si attiveranno proprio in prossimità del nostro Lago di Iseo. Pressione atmosferica intorno ai 1019 millibar, quindi indicare una zona anticiclonica e uno zero termico che si posizionerà intorno ai 4000 metri di altitudine, quindi a quote ancora molto elevate per il periodo. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana che vede una giornata lunedì soleggiata con clima decisamente estivo, anche caldo sul nostro settore, vedete le massime a Clusone potrebbero toccare anche i 29-30 gradi, sebbene la mattina le temperature saranno abbastanza gradevoli, intorno ai 18-19 gradi, con uno zero termico ancora molto elevato a 4100 metri di altitudine. Martedì sarà un po' la fotocopia della giornata di lunedì, con giornata soleggiata, con sole splendente, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche annuvolamento consueto sulle nostre montagne, ma nessuna precipitazione. Temperature ancora a Clusone molto alte, intorno ai 27-28 gradi, ma a Bergamo si potranno toccare anche i 31-32 gradi. Mercoledì abbiamo indicato un po' di variabilità, nel senso che passa una coda di una perturbazione sulle Alpi e nel corso della giornata non escludiamo, proprio dai settori più montuosi del nostro territorio, qualche locale acquazione di breve durata e qualche locale scoppio di tono, ma nulla di particolarmente significativo. Ancora temperature elevate. Giovedì, un po' come mercoledì, con qualche locale annuvolamento nelle ore centrale giornata e qualche locale acquazione, ma nulla di rilevante, con temperature in lieve calo, vedete le massime a Clusone, intorno ai 25-26 gradi. Venerdì saremo ancora in compagnia di una giornata soleggiata e di bel tempo che probabilmente ci porterà ancora un fine settimana in compagnia del sole e del bel tempo su gran parte del nostro territorio orobico. Se vi interessa faremo un approfondimento nella trasmissione Decoder alle ore 20 e 30 mercoledì sera con il cambiamento climatico in atto e gli eventi meteo estremi che stanno interessando il nostro territorio in questa pazza estate 2017. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.